Quartieri, strade, vedute della città, volti, nella mostra personale di Mauro Fornasero all'ex circolo dei nobili, oggi sede del punto informativo della Proloco. 12 tele che esprimono il linguaggio pittorico dell'artista, nella vita architetto, sviluppato negli ultimi dieci anni e caratterizzato dalle forme geometriche, dalle linee ben delineate, dai colori forti, dalla matericità, sempre però con riferimento al mondo reale, senza arrivare ad un astrattismo assoluto. Diciamo che ho cercato di portare un po' tutti i temi che tratto in questo periodo, che vanno dall'aspetto più architettonico, geometrico, con riferimenti agli scorci delle città, città inventate, o anche prendo dei riferimenti dalle fotografie, da Tannissetta stessa, per creare questi paesaggi urbani, che non hanno però molto di astratto. Più che altro è un geometrismo che si esprime tramite i colori forti, le linee decise e l'utilizzo di materiali abbastanza vari, i più vari possibili. L'altro filone, diciamo che è un filone che fa uso della figura umana, anche dei ritratti, però interpretati sempre secondo una congezione mia più contemporanea, diciamo meno accademica, quindi utilizzando sempre questo colore abbastanza deciso e queste linee forti. Le cose che accomunano i due filoni sono praticamente una tendenza mia, che ho di lasciare tutto come se fosse da completare, quasi non finito, nel senso che non mi piace un quadro che possa essere così completo, definito in tutte le sue parti. Ci sono molte parti che lasciano anche spazio un pochino all'interpretazione delle persone. Una mostra inaugurata lo scorso 15 dicembre, che sarà possibile visitare sino a domenica 20 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, voluta dalla Proloco, che ha iniziato un percorso di collaborazione con gli artisti nisseni. Dalla Proloco ha il combito di valorizzare anche gli artisti, oltre che il territorio, e questa è la casa dei nisseni. Il punto di informazione Proloco, che io spero diventi un punto di riferimento per tutti i nisseni e per tutti i turisti che visitano Caltanissetta, vede ora l'esposizione dopo Michelangelo La Cagnina di Mauro Cornasero. Sono due artisti che operano a Caltanissetta e non solo, che sono stati anche all'estero, recentemente entrambi hanno esposto a Dubai, e hanno fatto parte anche della manifestazione Ritratti, che la Proloco ha sponsorizzato, che abbiamo tenuto al Moncade, che abbiamo portato anche alle scuderie del Quirinale e a Cosenze a Battipaglia.